Allora questo è il risultato quasi finale, vi faccio vedere come è rimasto questo sock, questi erano circa 250 grammi di spinaci biologici congelati, questo è quando rimasto in questo modo si fanno due volte, due tbeche, quanto tempo può rimanere in frigo, uno può aggiungere, come ne facciamo presto noi, uno può aggiungere olio quando cuoce, prima di togliere, spegne il fuoco in modo che ce va pieno d'olio e rimane dentro e quello può durare a lungo, finché non fa la muffa adesso dobbiamo passare a questo piatto, ora proviamo a girarlo perché così la frittata è pronta, però per fare la cosa più carina, adesso proviamo a togliere l'olio come abbiamo fatto l'altra volta con l'olio, ci vedi? e poi si sente il profumo, caldo, adesso io metto qui, appoggio l'olio perché l'olio adesso cerchiamo di farla scivolare, ricordatevi sempre dell'olio, si sente l'olio del come si chiama, ecco fatto, adesso questo si cuoce due secondi e poi è una tortina e ha un profumo assolutamente delizioso, eh? ciao 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 ciao